. Maurizio Costanzo difende Belen, il giornalista è dalla parte della Showgirl. Belen Rodriguez è l'ospitata al Maurizio Costanzo Show, il marito di Maria De Filippi difende l'Argentina. . Le ultime ospitate di Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show hanno fatto discutere parecchio. In particolare più di qualcuno è rimasto stupito quando la Showgirl si è arrabbiata con il padrone di casa in merito ad una domanda sulla vita privata. . Una reazione, a detta di molti, del tutto inappropriata per una come l'Argentina, da sempre al centro del gossip e delle polemiche. . Il caso è finito pure su Nuovo TV, dove una lettrice affezionata del settimanale ha chiesto delucidazioni a Costanzo che, su tale rivista, tieni da tempo una rubrica sul mondo del piccolo schermo. . . A sorpresa il giornalista e conduttore ha preso le parti dell'ex moglie di Stefano De Martino, rimarcando la sua grande intelligenza e ironia. . . . Le parole di Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez. . Belen si è spazzentita quando lei, Costanzo, ha fatto domande sulla sua vita privata. . Insomma, Belen ha reagito come se fosse una persona normalmente attenta alla sua privacy. . Il che, devo ammettere, mi ha fatto sorridere. . . Anche perché, con tutto il rispetto, quando abbiamo di fronte la Rodriguez di che cose dovremmo parlare se non dei suoi amori o di altre frivolezze? Ha chiesto una lettrice attraverso il giornale diretto da Riccardo Signoretti. . . . La replica di Maurizio è stata schietta e diretta e totalmente dalla parte della sorella di Cecilia e Gerenias. . . Stava scherzando. . Belen ha solo giocato un po' dopo la domanda che le ho fatto. . 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